Gentili amici di Riviera 24 e Sanremo, a tutti buonasera. Pressione in aumento, però la prossima notte e domani, sabato, transiterà una debolissima perturbazione. Secondo me sulla Costa Azzura e la Riviera dei Fiori si tratterà solo di passaggi nuvolosi, medie e alti come quota. Invece magari da Capomele verso Savona e Genova potranno essere anche nuvole basse e dare qualche precipitazione. Ma la Costa Azzura e la Riviera dei Fiori dovrebbero essere risparmiate dalle precipitazioni. Vediamo la situazione prevista per la prossima notte alle 2, alle 00 di Greenwich. Ecco la situazione di attesa e questa è la perturbazione. Molto serpeggiante, quindi è già un segno che la perturbazione in se stessa è vecchia. Quando le vediamo ben formate come quelle in Atlantico, tutte di un corpo, tutte insieme e così, magari allora sono ancora allo stato giovane e danno precipitazioni importanti. Ma quando le vedete tutte spezzetate, fronte occluso, freddo, caldo, di nuovo freddo, è un sintomo che è ormai invecchiata. Quindi, in poche parole, questa sera, la prossima notte, domani, sabato, ogni tanto, trasiterà qualche nuvola. Potranno essere velature più o meno dense. Magari, ve lo ripeto, verso Genova e Savona e Spezia, ma là sono gli orinatoi della Liguria, là magari potrebbe anche piovere un po'. Un vento non significante, magari domani, domani pomeriggio soprattutto, si potrà svegliare un po' di vento da ovest, con qualche rinforzo. Mare poco mosso, localmente mosso, domani in giornata. Le temperature, però, soprattutto le minime, continueranno a essere un pochino basse, comprese fra 9 e 11 gradi. Le massime del pomeriggio, invece, tra 18 e 21 gradi. Quindi, nonostante le velature più o meno dense, potranno essere in aumento. Nei giorni successivi, questa cellula di alta pressione si porterà sul centro dell'Europa. Valore molto alto, anche 1043 hectopascal lunedì, e quindi catapulterà, soprattutto ancora nelle ore notturne, aria fresca. Quindi, non vedo un aumento delle temperature della notte, sempre comprese fra 9 e 11, localmente a 12 gradi. Mentre, invece, con il sole del pomeriggio, almeno fino a tutto martedì o mercoledì, le massime potranno avere il top tra 20 e 21 gradi. Mi pare che sia tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo martedì, buon weekend a tutti.